Interrogazione 3.109 dell'Onorevole Fratoianni su chiarimenti in merito alle iniziative assunte dalle forze dell'Ordine nei confronti di alcuni attivisti delle Associazioni per il Riconoscimento dei Diritti degli Omosessuali in occasione di una manifestazione svolta sia a Perugia il 29 marzo 2014. Onorevole Fratoianni la può illustrare per un minuto. Prego. Grazie, Signor Presidente. Signor Ministro, la Procura di Perugia ha iscritto nel registro degli indagati alcuni attivisti per i diritti civili nell'ambito di una manifestazione svoltasi, come è stato ricordato, il 29 marzo 2014. Il punto e il problema è che questa scelta fa seguito alla trasmissione di un verbale della Digos di Perugia, all'interno del quale si legge testualmente avvicinandosi ad altro individuo di sesso maschile si esibiva in un prolungato e concupiscente bacio sulla bocca dello stesso, quest'ultima frase è addirittura in eretto, nel bel mezzo di Corso Vannucci ed in presenza di numerose famiglie con bambini e ragazzi, molti dei quali addirittura minorenni, che affollavano in quel momento il centro cittadino, lasciando i passanti disgustati da tale dimostrazione. Adesso, Signor Ministro, vorrei sapere se lei ha conoscenza di questo episodio, se non ritenga le modalità di redazione di questo verbale gravi, un po' intrise di razzismo elesivi della dignità delle persone e soprattutto che azioni intenda intraprendere nei confronti di chi ha redatto in questo modo questo verbale. Grazie. Ministro Alfano, Ministro dell'Interno, facoltà di rispondere. Prego. Grazie. Innanzitutto vorrei dire che le persone che sono state individuate hanno delle imputazioni, cioè le imputazioni che gravano sui manifestanti, non hanno alcuna attinenza con il punto sottolineato dell'Onorevole Fratoianni che riguardava un verbale, cioè nelle formulazioni delle accuse al loro carico non sono mai venuti in evidenza né hanno avuto alcun rilievo presunti comportamenti osceni di cui avrebbero dato atto gli organi verbalizzanti. Questo è un punto che mi pare essenziale. In effetti il quesito dell'Onorevole Fratoianni ci poneva il dubbio, e cioè qual era la ragione per la iscrizione nel registro degli indagati di due uomini aderenti alle associazioni Onfalos Arci Gay e Arci Lesbica che avrebbero appunto scambiato un bacio in risposta alla manifestazione delle sentinelle in piedi che si è tenuta il 29 marzo. A questa manifestazione preannunciata dagli organizzatori, regolarmente preannunciata dagli organizzatori, hanno partecipato circa 250 persone. Nel corso dell'evento una trentina di appartenenti alla sinistra antagonista e anarchica riconducibili al locale e centro sociale e alle citate associazioni, hanno dato vita improvvisamente ad una contromanifestazione che non era stata segnalata per il necessario preavviso e non era stata segnalata al competente questore. Scandendo slogan ad alta voce, hanno girato tra le fila delle sentinelle e indirizzato verso di loro espressioni dal tenore provocatorio. Il pronto intervento delle forze di polizia in servizio di ordine e sicurezza pubblica disposto dalla questura è valso a contenere gli effetti delle estemporanee iniziative di dissenso postenessere dai contestatori. Due di essi sono stati deferiti per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni della propria identità personale. Quattro per il concorso nel reato di violazione dell'obbligo di preavviso di manifestazione non autorizzata. Tutti e sei inoltre sono stati deferiti per il concorso nel reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Per cui, come ho detto in premessa, le imputazioni che gravano sui manifestanti dimostrano chiaramente che nelle formulazioni delle accuse non sono mai venuti in evidenza gli atti sottolineati dall'onorevole Fratoianni e contenuti asseritamente nel verbale di cui alla sua interrogazione. La facoltà di replicare l'onorevole Fratoianni per due minuti. Ministro, la ringrazio. Devo dire che la sua risposta non solo non mi soddisfa ma dà ragione fino in fondo della mia interrogazione. Del resto io non ho chiesto conto qui del comportamento della Procura che svolge il suo mestiere ma di come sia stato redatto un verbale da funzionari di questo Stato. E su questo lei non solo non ha risposto. Non ha risposto se sia forse necessario prendere qualche iniziativa nei confronti di chi pubblico ufficiale utilizza queste espressioni per descrivere un atto che come si vede, come lei ha confermato non è neanche oggetto dell'attività della Procura della Repubblica. Ora io potrei obiettare molto sul fatto che si indaghino, si iscrivano nel registro di indagati persone che in modo pacifico, senza usare violenza, si trovano a contestare la manifestazione di chi si batte contro i diritti di tutti come il movimento delle sentinelle in piedi. Ma non faccio questo. Le chiedo un'altra cosa. Di questo lei non mi ha dato risposta. Lo trovo molto grave. Le segnalo solo a margine che le due persone accusate da questi verbalizzanti, non dalla Procura, di disgustare i passanti perché si baciavano, cioè quello che fanno tutte le persone che si vogliono bene in questo Paese come in altri posti del mondo, sono all'estero sposate. Sono due delle tante persone che a lei evidentemente non piacciono molto, quelle per le quali il suo Ministero ha chiesto ai prefetti in tutta Italia di attivarsi per cancellare dai registri ogni presa d'atto del matrimonio celebrato all'estero. Io penso che queste scelte, anche le scelte che lei col suo Ministero ha fatto, contribuiscano a diffondere e consolidare una cultura che poi purtroppo troviamo scritta nei verbali non di qualche organizzazione neofascista, ma della Polizia italiana. Ecco, verbali che hanno un tono che sta a metà tra l'inquisizione e la Polizia fascista. Siamo all'interrogazione 3.110 del deputato Formisano, concernente iniziative per chiarire le competenze dei prefetti in relazione alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Onorevole Agnello Formisano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Grazie Presidente, grazie Ministro per la tempestività con cui investe il Parlamento di una questione che è su tutti i giornali. Lei sa, come so io e per brevità sintetizzo, che il discrimine è dato da una sentenza della Corte di Cassazione della Repubblica Italiana, la 4.184, che ha stabilito inequivocabilmente che la trascrizione del matrimonio non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e di pubblicità. Se questo è, e non lo dice uno Stato terzo, ma lo dice la Repubblica Italiana attraverso la Cassazione, significa che questa trascrizione non ha natura provvedimentale. E allora, se non ha natura provvedimentale, diventa difficile comprendere quale possa essere l'intervento invocato ai sensi della legge 241 del 1990 che possa essere realizzato per farne venire meno gli effetti o addirittura per cancellarli. Noi pensiamo che uno Stato sia giusto quando si muova, anche nell'ambito di scelte condivisibili da una parte o meno, nel rispetto delle regole. Noi vorremmo capire ed essere certi che i prefetti non commettano una cosa impropria se fanno ciò che è stato loro suggerito di fare. Il Ministro dell'Interno Angelino Alfano ha facoltà di rispondere. Grazie. Le perplessità del collega sono collegate all'asserita mancanza di disposizioni legislative che affermino chiaramente in capo ai prefetti tale potere tutorio nei confronti dei sindaci, mentre l'unica forma di intervento su tali trascrizioni sarebbe riservata all'autorità giudiziaria. Devo precisare che l'intervento del prefetto in questi casi è espressione delle funzioni di vigilanza sull'ordinata tenuta dei registri di Stato civile, funzioni che gli sono state assegnate in maniera inequivocabile dall'articolo 9 del DPR 396 del 2000, in riferimento al quale è appunto il prefetto ad esercitare in questo ambito compiti di sovrintendenza nei confronti dei sindaci. Desidero anche ricordare che il sindaco è considerato dalla disposizione che ho appena citato nella sua veste di ufficiale di governo e dunque come organo di amministrazione indiretta dello Stato e non certo quale vertice dell'ente locale. È del tutto proprio, pertanto, e limitatamente a questi compiti, l'esercizio di poteri che sono tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica e che concretizzano un rimedio di ordine amministrativo, impregiudicata ovviamente la possibilità di alternativi strumenti di ordine giurisdizionale. Del resto, relativamente all'analogo ai fatti specie inerenti all'adozione di provvedimenti di annullamento disposte dai prefetti nei confronti di ordinanze sindacali di sicurezza urbana, è stata affermata anche da parte di autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza per esempio 3076 del 2008, la piena legittimità dell'intervento prefettizio proprio in ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del Sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del prefetto. Naturalmente questo potere in conformità a consolidati indirizzi generali deve esercitarsi nel rispetto delle forme procedimentali, secondo le quali l'annullamento gerarchico va preceduto da un intervento monitorio che solleciti l'organo sindacale ad esercitare in autotutela un potere proprio di annullamento e si attivi dunque solo in seguito alla perdurante inerzia del Sindaco. In coerenza con queste specifiche competenze e con il loro articolato esercizio, i prefetti sono stati quindi sensibilizzati con la circolare del 7 ottobre scorso a rivolgere formale invito ai sindaci sia per il ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione delle unioni di persone dello stesso sesso celebrate all'estero, sia a provvedere alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni qualora effettuate. Grazie Ministro. Facoltà di replicare l'Onore Ole Formisano per due minuti. Prego. Grazie Presidente. Ministro, devo dire che mi dichiaro come rappresentante di Centro Democratico parzialmente soddisfatto per le cose che lei ha detto. C'è un'inversione di tendenza, mi pare evidente. Quindi c'è prima un invito ad un atto da esercitare in autotutela e poi eventualmente un provvedimento repressivo laddove si mantenga l'inerzia. Devo dire però che come Avvocato non mi ha convinto, in tutta onestà mentale. Non mi ha convinto perché lei ha citato dei fatti in cui vi è natura provvedimentale sui quali si incide attraverso le norme che lei ha richiamato. Qui siamo di fronte ad atti che non hanno natura provvedimentale ma, come ha detto la Cassazione, solo certificativa e di pubblicità. E devo dire che mi dispiace dover dire queste cose nell'aula sovrana del Parlamento perché la mia sensazione sulla base del dibattito di questi giorni, che è sui giornali, è che ancora una volta arriviamo buoni terzi noi, politica italiana, rispetto all'autorità morale della Chiesa. Io non vorrei che si potesse dire o si determinassero le condizioni per poter dire che Papa Francesco è più avanti di noi su determinate questioni. E ancora una volta buoni terzi rispetto alla magistratura. Siamo tutti convinti che c'è bisogno di una legge che disciplini in un modo esauriente, civile e moderno questo versante del nostro vivere civile. Ma ancora una volta è la Cassazione che ci deve dire cosa è giusto fare e cosa è giusto non fare. È noi che siamo la politica e che dovremmo orientare i giudici. Dobbiamo ancora una volta sentirci terzi rispetto all'autorità morale della Chiesa e all'autorità giurisdizionale che è autonoma in Italia. Comunque grazie perché credo che questo è un tema che ci interesserà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Grazie. Interrogazione 3.111. Onorevole Rampelli, concernente iniziative urgenti volte a tutelare le vittime dalla criminalità organizzata con particolare riferimento alla vicenda dell'imprenditore Tiberio Bentivoglio. Onorevole Rampelli per un minuto. Prego. Grazie Presidente, Ministro Alfano. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale vuole attenzionare la storia dell'imprenditore di Reggio Calabria Tiberio Bentivoglio che si è ribellato all'Andrangheta rifiutandosi di pagare il pizzo ai suoi estorsori. La qualcosa ovviamente ha consentito poi di condannarli. Dal 1992 ha continuato a subire minacce, attentati, persino un tentato omicidio. Vive sotto scorta. La sua attività per queste ragioni è a un passo dal fallimento. Il negozio ha lo sfratto esecutivo. La casa è stata ipotecata e messa all'asta dopo la sospensione rimessa all'asta con tempi record d'Equitalia. Le banche non danno più credito e quindi Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale vuole approfittare di questa circostanza per chiederle, Ministro Alfano, se questo è quello che il suo Governo intende per lotta alla mafia. Ministro dell'Interno, Angelino Alfano ha facoltà di rispondere. Prego. Sì, grazie. L'onorevole Rampelli ha fatto una domanda articolata alla quale bisogna rispondere dicendo in premessa che il signor Bentivoglio, che non risulta essere testimone di giustizia, è stato vittima in passato di atti di intimidazione a scopo di estorsione e in conseguenza dei quali ha subito dei danni sia materiali al proprio esercizio commerciale sia personali a causa del riferimento di cui restò vittima nel 2011. Dopo quest'ultimo episodio il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto in via d'urgenza nei confronti dell'imprenditore l'adozione di un dispositivo tutorial. A seguito di un ulteriore atto intimidatorio che è avvenuto lo scorso mese di aprile, l'Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza, per la sicurezza personale, l'ufficio che sta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta del Prefetto di Reggio, ha immediatamente rimodulato la misura di protezione, applicandone una di livello superiore ancora in vigore e che contempla l'utilizzo di una vettura blindata. In questa occasione è stata disposta anche l'intensificazione del servizio di vigilanza generico radiocollegato presso l'abitazione di Bentivoglio e la sua attività commerciale. Per quanto riguarda l'accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, risulta che in relazione agli episodi estorsivi e intimidatori subiti, Tiberio Bentivoglio, e dalla moglie Vincenza Falsone, socia dell'impresa familiare, abbiano presentato a partire dal luglio del 2006 varie istanze di elargizione alla Prefettura di Reggio Calabria. A seguito dei necessari approfondimenti istruttori, ai due richiedenti sono stati concessi a vario titolo più di 835 mila euro. Informo inoltre che la sospensione dei termini dei procedimenti esecutivi di cui il Bentivoglio ha comunque beneficiato è scaduta e non risulta sia stata disposta un'ulteriore proroga dall'autorità giudiziaria competente. Sul piano generale osservo che la normativa italiana è tra le più avanzate in materia di provvidenza economica alle vittime delle organizzazioni criminali, benché trattandosi di accertamenti complessi, peraltro correlati ai tempi della giustizia, la conclusione dei procedimenti e l'accoglimento delle istanze possa subire ritardi o rallentamenti difficilmente compatibili con le esigenze dei richiedenti. Al di là dei possibili interventi normativi posso segnalare che sul piano amministrativo si sta procedendo a una riorganizzazione delle strutture commissariali preposte alla gestione unitaria dei benefici di legge e a una progressiva razionalizzazione delle procedure che passa anche dalla recente unificazione dei fondi anti-racket e anti-usura e di sostegno alle vittime delle mafie. La ringrazio. L'onorevole Rampelli può replicare per due minuti. Grazie Ministro. La risposta non è soddisfacente. Non è soddisfacente perché tutti i nodi rimangono perfettamente al loro posto. Il primo riguarda i fondi destinati alle vittime della mafia che io vorrei rammentare sono stati distratti proprio dal suo governo e destinati all'immigrazione clandestina, all'operazione Mare Nostrum. Sono stati sottratti ben 50 milioni di euro dal fondo per le vittime della mafia. Così come io le chiedo di scendere in campo ufficialmente per bloccare immediatamente l'asta, la seconda asta che vergognosamente Equitalia ha riaperto a soli 15 giorni dalla scadenza della prima sospensione. Parliamo dell'asta con la quale appunto si mette a repentaglio la casa stessa dove abita la famiglia Bentivoglio. Mai visto un ufficio pubblico così solerte. Il responsabile locale io spero che abbia questo ritmo, questo trend, questa capacità di essere efficiente e veloce. Nel qual caso, se così non fosse, andrebbe un attimo capito che cosa accade anche dentro l'ufficio locale di Equitalia. io penso che la filosofia sia sbagliata perché al di là della scorta, dell'autoblindata, di tutto quello che si può fare per andare in conto alle esigenze di una persona minacciata dalla mafia, sia indispensabile quasi esibire come fosse un emblema, un esempio da seguire, da emulare chi ha il coraggio di denunciare atti estorsivi, chi ha il coraggio di contrastare la logica del pizzo. E questo non è accaduto affatto nel rapporto tra l'imprenditore Bentivoglio e lo Stato. Quindi penso che sia indispensabile rivedere la legge, penso che sia indispensabile accelerare le procedure, penso sia indispensabile far capire che lo Stato c'è e interviene tempestivamente, non aspetta 4 anni, 10 anni, 12 anni o 22 come in questo caso. Penso che questa è la grande scommessa che anche il suo Governo, in nome per conto di tutta l'Italia, deve provare a vincere, intanto dimostrandosi capace di risolvere il problema dell'imprenditore Bentivoglio.